Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Marchesane. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia locale di Bassano, due auto sono entrate in collisione. Si tratta di un Audi Station Wagon e di una Fiat 500. I due mezzi viaggiavano entrambi con direzione 9 Bassano. Nello scontro è rimasta ferita la conducente dell'utilitaria che è stata portata in pronto soccorso al San Bassano per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. rallentamenti per la strada rimasta chiusa al traffico.